Grazie a tutti. Task force per le notifiche nel giorno in cui vengono sbantellate le tende utilizzate per i rinvidi e i processi, il ministro Bonafede annuncia su Facebook che i cancellieri non saranno lasciati soli. In fermento per il Papa è scattato il conto alla rovescia fino al 7 luglio, giorno in cui Bari accoglierà il pontefice centro cittadino blindato. Quei rude rivista mare, il nostro viaggio lungo la costa barese evidenzia lo stato di degrado di Grotta Regina e altre strutture un tempo simbolo della mondanità. Buonasera in diretta dalla redazione di Telebari, emergenza palla giustizia in primo piano, lo avete sentito dai nostri titoli, l'INA il ricorre al TAR contro l'ordinanza del comune, mentre questa mattina sono iniziate le operazioni di smontaggio delle tre tenso strutture installate via Nazarianz, mentre la Lega rispolvere il progetto Fizzarotti. Sì, sentite. Siamo a lavoro per dare agli uffici giudiziari di Bari una sede sicura e capace di ospitare tutte le sezioni, ha scritto in mattinata il ministro della giustizia Alfonso Bonafede, affidandosi ancora una volta, e nonostante questa modalità gli sia stata contestata dagli avvocati, a un post su Facebook. La preoccupazione però coinvolge anche l'attività delle cancellerie conseguenti alla sospensione. Decine di migliaia di notifiche dovranno infatti partire dagli uffici di Bari, e in tal senso è lo stesso ministro ad annunciare la volontà di istituire un'apposita task force di supporto. Una novità che non accontenta gli operatori della giustizia baresi, atteso che allo stato attuale non c'è lo spazio per il personale in servizio. Più che di nuove unità, la giustizia baresi oggi è in cerca di una casa. Siamo convinti che il principale responsabile di questa situazione risponda al nome di Michele Emiliano. Vanno all'attacco del governatore ed ex sindaco di Bari i rappresentanti della Lega che hanno presentato la propria ricetta per risolvere l'emergenza giudiziaria, rispolverando la cittadella della giustizia dell'impresa Pizzarotti. Un grande complesso per tutti gli uffici finito negli scantinati, dopo un lungo tiro e molla risoltosi proprio nelle aule giudiziarie. Se per Fabio Romito il progetto di allocare in maniera definitiva tutta la giustizia nelle ex casermette non sarebbe assolutamente realizzabile, mancherebbe per esempio la viabilità, la cittadella disegnata dall'ingegner Cutolo da costruire a Carbonara sarebbe realizzabile a detta del consigliere comunale del Carroccio in 30 mesi. Anche la parlamentaria Narita Tateo, componente della Commissione Giustizia, ha confermato che lo stesso Ministero valuterebbe una soluzione di questo tipo. Non vogliamo gravare sui cittadini ulteriormente, anche perché vogliamo dare realmente una giustizia celere, vogliamo dare degli spazi dove non solo gli avvocati, i magistrati, ma anche i dipendenti possano lavorare con tranquillità. Anche perché in questi anni, avendo io comunque fatto la professione di avvocato e svolgendola, posso garantire che gli ambienti in cui noi facciamo le udienze o in cui lavorano i dipendenti sono veramente disastrosi. Cambiamo argomento, continua la preparazione per l'attesissimo arrivo il prossimo 7 luglio di Papa Francesco. Sentiamo. Sabato prossimo mi recherò a Bari, insieme a molti capi di chiese e comunità cristiane del Medio Oriente. Vivremo una giornata di preghiera e riflessione sulla sempre drammatica situazione di quella regione, dove tanti i nostri fratelli e sorelle nella fede continuano a soffrire e imploreremo a una voce sola su di te sia pace. Chiedo a tutti di accompagnare con la preghiera questo pellegrinaggio di pace e unità. Proseguono le attività propedeutiche e l'arrivo di Papa Francesco sabato prossimo nel Capologo Pugliese. Il Santo Padre ieri a Roma ha ricordato l'appuntamento del prossimo 7 luglio e ne ha spiegato l'importanza. Intanto, fervoni preparativi e tra poche ore da Palazzo di Città saranno emanate le prime ordinanze. Quelle su traffico e viabilità avranno la precedenza su tutte e saranno operative già dalle 5 del mattino di venerdì 6 luglio. Le altre, che attengono invece alla sicurezza, arriveranno nei prossimi giorni. Ricalcano quelle emanate in coincidenza della festa di Capodanno e riguarderanno sicuramente il divieto dell'utilizzo di bottiglie in vetro. Confermato intanto, quanto disposto nei giorni scorsi per la gestione dei flussi dei cittadini che arriveranno a Bari utilizzando i treni. L'aria interessata dai provvedimenti è quella di Piazza Moro e della stazione di Bari Centrale. Il piano prevede l'incremento di alcune linee in direzione Bari e per quanto riguarda la gestione dell'area ferroviaria, in Piazza Moro sarà attivata una zona cosiddetta di contenimento che favorisca un accesso controllato dei viaggiatori alla stazione e alle zone dei binari. Nei pressi della facciata esterna della stazione saranno inoltre installati dei pannelli luminosi che riporteranno gli orari e le destinazioni dei treni in arrivo e in partenza in modo da informare i viaggiatori. In Piazza Moro si delimiteranno le aree dove sosteranno i passeggeri suddivisi in base alla destinazione e al varco di accesso collegato al binario. L'intera area sarà presidiata dai volontari della protezione civile e della polizia locale in modo da gestire i flussi in maniera ordinata. Restiamo in tema, è un'idea che è maturata in realtà da molto tempo perché la situazione in Medio Oriente sta molto a cuore al Santo Padre. Così in un'intervista al Sire il Cardinale Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, spiega il motivo che ha spinto Papa Francesco a organizzare una giornata di riflessione e preghiera per il Medio Oriente a Bari il 7 luglio. Il Cardinale ricorda, il Papa ha detto, il tempo è maturo ed è importante dare questo segno della preghiera per la pace per questa regione del mondo e invitare tutte le altre chiese, soprattutto i patriarchi delle chiese ortodosse orientali e cattoliche a Bari per pregare insieme per la pace. Voltiamo pagina, martedì scorso la visita in via Morelli e Silvati. giovedì scorso, quella in via Lamagiotta, stamattina l'ultima di una serie in via dei Trulli. Il Comitato di Quartiere di Torriammare lancia la sfida agli incivili della zona e decide di presidiare l'isola ecologica del Rione per tentare di arrestare il fenomeno dell'abbandono selvaggio dei rifiuti. Il filo conduttore dei sopralluoghi effettuati dal Comitato di Quartiere è ben definito. Bidoni stracolmi, differenziata fatta molto male e materiale abbandonato nei pressi dei cassonetti senza alcun rispetto della normativa vigente. In molti casi, come pare evidente dal video registrato col cellulare, a infischiarsene delle regole sono le attività commerciali. Ci auguriamo che possano essere presto installate delle fototrappole, dicono dal Comitato, la situazione è drammatica, una vergogna inarrestabile. Abbiamo titolato nel nostro giornale Rude rivista a mare perché nel servizio che vi stiamo per proporre abbiamo fatto un viaggio lungo la costa barese e la scoperta di quelli che un tempo erano dei simboli di mondanità. Guardate. Potrebbero essere utilizzati per rendere la costa barese davvero un fiore all'occhiello, ma la realtà è che rimangono così come li vedete, abbandonati e nella maggior parte dei casi pericolosi. E nel tratto che da San Giorgio arriva fino a Torre a Mare sono diverse le strutture lasciate al degrado, divenute nel tempo sede di illegalità. Ma di una su tutte a Torre a Mare non rimane che il ricordo. Un tempo sala ricevimenti di prestigio ha ospitato nomi importanti di caratura anche internazionale. Oggi invece è così. E Grotta Regina, devastata anni fa durante un incendio, è rimasta esattamente come allora. Diversi i privati che nel corso di questi anni si sono avvicinati alla struttura per un suo recupero con l'idea di riportarla agli antichi splendori. Ma l'inerzia della burocrazia e una volontà che forse non è volta al concetto di riqualificazione fanno in modo che tutto rimanga bloccato. E ai residenti della zona tocca accontentarsi di quattro pareti ancora coperte di fuligine, probabilmente pericolanti. La struttura in cui i gnoti tempo fa hanno ricavato un accesso e da tempo un dormitorio notturno. Eppure i progetti, dicevamo, non mancano. Ma da palazzo di città in cui si continua a demandare la responsabilità a terzi, continuano a tacere. E' stato testato questo pomeriggio da Antonio Caputo, uno degli atleti dell'HBari 2003, il Sea Trek Tobia, il sistema per l'ingresso in acqua delle persone con disabilità motorie installato a Torre Questa. Si tratta di una passerella alimentata ad energia solare con due binari su cui scorre una sedia studiata per portare chi ha disabilità motoria direttamente in acqua dalla spiaggia. La sedia viene azionata direttamente dall'utente attraverso un telecomando che consente la discesa e la successiva risalita in base alle sue esigenze. Il sistema dispone inoltre di una pensilina dotata di una doccia alimentata ad acqua dolce e di illuminazione. Lungo la passerella i bagnanti saranno assistiti da personale addetto. Sarà possibile utilizzare la sedia a partire da mercoledì prossimo 4 luglio, giorno dell'inaugurazione ufficiale della nuova gestione della spiaggia cittadina. E parliamo di salute, tumori cutanei e carcinomi mammari. Se ne parla Bari nel focus periodico di medici oncologi. Sentiamo. Farmaci biologici, immunoterapie, tumori cutanei e carcinomi della mammella si possono sconfiggere e la gestione di queste patologie è al centro del focus organizzato a Bari e presieduto dal direttore del reparto oncologico Don Tonino Bello dell'Istituto Tumori Gennaro Palmiotti. Proprio sui melanomi si registrano i risultati più incoraggianti. Anche i pazienti con metastasi riescono a superare positivamente la malattia con una sopravvivenza dopo i 4 anni che per queste situazioni più complicate raggiunge il 50%. Numeri, spiega Palmiotti, che salvano notevolmente se si riesce a diagnosticare e curare la patologia in maniera il più possibile precoce. Il consiglio è che quando una persona ad un certo punto vede delle nuove lesioni sulla propria acute deve rivolgersi al medico e ancora quando un neo, anche un vecchio neo, incomincia a ingrandirsi, ad arrossarsi, a dare prurito, a sanguinare, questo può essere un campanello d'allarme e senza assolutamente allarrimismi deve essere attentamente visitato dal suo medico e poi da un dermatologo. Stesso discorso va fatto per i carcinomi mammari. La prevenzione è il primo strumento per affrontare al meglio la patologia. Effettuare una mammografia ogni anno dopo i 40 e comunque in caso di familiarità è importantissimo. Una diagnosi precoce permette di guarire il 90% delle pazienti. Ma risultati importanti si registrano oggi anche nella malattia metastatica grazie alle nuove cure. Oggi abbiamo dei farmaci anche non chemioterapici, mi riferisco per esempio agli inibitori delle cicline, che possono controllare questa malattia in un'alta percentuale. Per cui non più pensare a terapie pesanti, a terapie che in qualche maniera compromettono la qualità di vita, ma oggi anche con delle semplici terapie orali noi possiamo controllare per un lungo tempo questa patologia anche se metastatica. Bene, ci fermiamo. Breve pausa pubblicitaria. Torniamo tra poco con altre notizie. Restate con noi. Eccoci ancora qui in diretta per la seconda parte del nostro telegiornale. Partiamo dall'emergenza pala giustizia. L'INAIL contro il Comune, l'ente proprietario dell'immobile di Viena Zarianza, ha presentato ricorso al TAR contro l'ordinanza di sgombero di Palazzo di Città. Sentite. Un'emergenza senza fine. Alla situazione già disperata dalla giustizia barese si aggiunge un carico da 90. L'INAIL, l'ente proprietario del pala giustizia di Viena Zarianza, ha impugnato dinanzi al TAR Puglia l'ordinanza con cui il Comune di Bari lo scorso 31 maggio ha dichiarato l'inagibilità dell'immobile ordinando lo sgombero. entro il 31 agosto, un ricorso che rischia di allungare ulteriormente i tempi del trasloco. E se da un lato il Comune spinge sulla necessità di liberare il Palazzo, annunciando la misura drastica dello sgombero immediato, dall'altro l'INAIL fa appello alla giustizia amministrativa perché non vuole farsi carico degli oneri relativi all'alleggerimento dei piani e del trasferimento. Per l'INAIL, gli obblighi che derivano dalla necessità di garantire l'incolumità pubblica devono essere a carico del Ministero della Giustizia e non del proprietario. L'ENTE ricorda, tra l'altro, che il contratto di locazione è scaduto e quindi il Ministero sta di fatto occupando l'immobile senza averne titolo. In premessa, infatti, spiega che da quando la competenza dell'inizia giustizia è passata dal Comune al Ministero nel settembre 2015, la proprietà non ha più ricevuto l'equendenizzo di locazione accumulando crediti per complessivi 3,6 milioni di euro. Nel frattempo sono stati anche eseguiti lavori di manutenzione straordinaria che sono costati all'ENTE più di 2 milioni di euro. Nel maggio scorso, quindi, non essendo pervenuto alcun pagamento, l'INAIL ha citato il Ministero dinanzi al Tribunale Civile. L'udienza è fissata per gennaio 2019. Continuano i preparativi per l'attesissima visita di Papa Francesco che sarà accolto qui in città sabato prossimo. Sentiamo. Sabato prossimo mi recherò a Bari, insieme a molti capi di chiese e comunità cristiane del Medio Oriente. «Vivremo una giornata di preghiera e riflessione sulla sempre drammatica situazione di quella regione dove tanti nostri fratelli e sorelle nella fede continuano a soffrire e imploreremo a una voce sola che la preghiera su di te sia pace. Chiedo a tutti di accompagnare con la preghiera questo pellegrinaggio di pace e unità». Proseguono le attività propedeutiche e l'arrivo di Papa Francesco sabato prossimo nel Capologo Pugliese. Il Santo Padre ieri a Roma ha ricordato l'appuntamento del prossimo 7 luglio e ne ha spiegato l'importanza. Intanto, fervoni preparativi e tra poche ore da Palazzo di Città saranno emanate le prime ordinanze. Quelle su traffico e viabilità avranno la precedenza su tutte e saranno operative già dalle 5 del mattino di venerdì 6 luglio. Le altre, che attengono invece alla sicurezza, arriveranno nei prossimi giorni. Ricalcano quelle emanate in coincidenza della festa di Capodanno e riguarderanno sicuramente il divieto dell'utilizzo di bottiglie in vetro. Confermato intanto, quanto disposto nei giorni scorsi per la gestione dei flussi dei cittadini che arriveranno a Bari utilizzando i treni. L'area interessata dai provvedimenti è quella di Piazza Moro e della stazione di Bari Centrale. Il piano prevede l'incremento di alcune linee in direzione Bari e per quanto riguarda la gestione dell'area ferroviaria, in Piazza Moro sarà attivata una zona cosiddetta di contenimento che favorisca un accesso controllato dei viaggiatori alla stazione e alle zone dei binari. Nei pressi della facciata esterna della stazione saranno inoltre installati dei pannelli luminosi che riporteranno gli orari e le destinazioni dei treni in arrivo e in partenza in modo da informare i viaggiatori. In Piazza Moro si delimiteranno le aree dove sosteranno i passeggeri suddivisi in base alla destinazione e al varco di accesso collegato al binario. L'intera area sarà presidiata dai volontari della protezione civile e della polizia locale in modo da gestire i flussi in maniera ordinata. Cambiamo argomento martedì scorso, la visita in via Morelli e Silvati, giovedì quella in via La Magiotta, stamattina l'ultima della serie in via dei Trulli. Il comitato di quartiere a Torriammare lancia la sfida agli incivili della zona e decide di presidiare l'isola ecologica del Rione per tentare di arrestare il fenomeno dell'abbandono selvaggio dei rifiuti. Il filo conduttore dei sopralluoghi effettuati dal comitato di quartiere è ben definito. Bidoni stracolmi, differenziata fatta male e materiale abbandonato nei pressi dei cassonetti senza alcun rispetto della normativa vigente. In molti casi, come pare evidente dei video registrati col cellulare, a infischiarsene delle regole sono le attività commerciali. Ci auguriamo che possano essere presto installate delle fototrappole, dicono dal comitato. La situazione è drammatica, una vergogna inarrestabile. Strutture un tempo bellissime e ora lasciate al degrado e la costa barese ne è piena, come vi mostriamo nel nostro servizio. Potrebbero essere utilizzate per rendere la costa barese davvero un fiore all'occhiello, ma la realtà è che rimangono così come li vedete, abbandonati e nella maggior parte dei casi pericolosi. È nel tratto che da San Giorgio arriva fino a Torriammare sono diverse le strutture lasciate al degrado, divenute nel tempo sede di illegalità. Ma di una su tutte, a Torriammare, non rimane che il ricordo. Un tempo sala ricevimenti di prestigio ha ospitato nomi importanti di caratura anche internazionale. Oggi invece è così. E Grotta Regina, devastata anni fa durante un incendio, è rimasta esattamente come allora. Diversi i privati che nel corso di questi anni si sono avvicinati alla struttura per un suo recupero, con l'idea di riportarla agli antichi splendori. Ma l'inerzia della burocrazia è una volontà che forse non è volta al concetto di riqualificazione, fanno in modo che tutto rimanga bloccato. E ai residenti della zona tocca accontentarsi di quattro pareti ancora coperte di fuligine, probabilmente pericolanti. La struttura, in cui i gnoti tempo fa hanno ricavato un accesso, è da tempo un dormitorio notturno. Eppure, i progetti, dicevamo, non mancano. Ma da palazzo di città, in cui si continua a demandare la responsabilità a terzi, continuano a tacere. E' stato testato questo pomeriggio da Antonio Caputo, uno degli atleti dell'HBari 2003, il Seatrek Tobia, il sistema per l'ingresso in acqua delle persone con disabilità motorie installato a Torre Quetta. Si tratta di una passerella alimentata ad energia solare, con due binari su cui scorre una sedia studiata, per portare chi ha disabilità motorie direttamente in acqua dalla spiaggia. La sedia viene azionata direttamente dall'utente attraverso un telecomando che consente la discesa e la successiva risalita in base alle sue esigenze. Il sistema dispone inoltre di una pensilina dotata di una doccia alimentata da acqua dolce ed illuminazione lungo la passerella. I bagnanti saranno assistiti da personale addetto. Sarà possibile utilizzare il Seatrek Tobia a partire da mercoledì prossimo 4 luglio, giorno dell'inaugurazione ufficiale della nuova gestione della spiaggia cittadina. Parliamo di salute. Il tabagismo resta una delle principali cause di malattie polmonari e con l'obiettivo di puntare sulla prevenzione, domani all'oncologico si terrà un open day di sensibilizzazione sui danni del fumo. Sentite. Dottore Sagatino, si terrà una giornata di sensibilizzazione ai danni del fumo all'Istituto Oncologico Giovanni Paolo II. Sì, domani il 3 luglio ci sarà un open day nel quale abbiamo voluto far conoscere una delle iniziative che riguardano la prevenzione nei confronti del tabagismo e cioè l'istituzione del nostro centro antifumo istituzionale. Centro antifumo accreditato anche all'Istituto Superiore di Sanità ed è una delle attività che anche la nostra direzione generale ha voluto favorire e accogliendo e condividendo le proposte fatte dal nostro gruppo, in primis dal dottor Domenico Galetta, che è il coordinatore del progetto di una Smoke Free Hospital. Sarà anche l'occasione per suggellare la nascita della sezione pugliese di Valce. Sì, infatti io sono onorata di questo momento perché abbiamo collaborato per diversi anni con l'associazione Valce che vuol dire Women Against Lung Cancer in Europe e la professoressa Novello, che è il presidente nazionale, ha consentito che nascesse la sede regionale pugliese. E andiamo con la pagina degli spettacoli. Si è conclusa con successo la tournée del Teatro Petruzzelli di Bari in Giappone, sei tappe che hanno registrato in gran parte il tutto esaurito e il consenso della critica tra i numerosi estimatori della lirica italiana. A dieci anni dalla ricostruzione, dopo il ruogo che lo distrusse nel 91, il prestigioso teatro italiano ha portato in scena la tournée di Giacomo Puccini e il trovatore di Giuseppe Verdi. Una serie di spettacoli di grande impatto mediatico e artistico cui hanno contribuito con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Tokyo 140 tra artisti, musicisti, direttori e personale del Politea Mabarese appositamente giunti dall'Italia. Vi abbiamo mostrato un estratto degli spettacoli che si sono tenuti in Giappone. Noi siamo in chiusura del nostro giornale, ma vi ricordo che tra poco ci sarà una nuova puntata della nostra rubrica Chiama De Caro con il sindaco Antonio De Caro che potrà rispondere alle vostre domande. Vi ricordo che la trasmissione verrà trasmessa anche in diretta Facebook. Potete collegarvi alla nostra pagina e scriverci le domande per interagire direttamente con il primo cittadino. Io per intanto vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Ben trovati da Nikos di Trebi Meteo diamo insieme un'occhiata alla giornata di martedì cosa ci aspetta dal punto di vista atmosferico perché l'alta pressione sarà sempre ben stabile in zona mediterraneo e quindi tutto tranquillo al centro-sud schiarite anche ampia in una giornata calda mentre i colori blu ci fanno vedere qualche temporale in montagna al nord Italia a partire dal pomeriggio e dalla serata. Non è escluso qualche fenomeno possa avvicinarsi durante la serata anche alcuni settori pedemontani specie di Alta Lombardia e Piemonte. Ma andiamo a osservare la nuvolosità c'è l'isserenio al più poco nuvolosi al centro-sud magari qualche nube marittima sulla costa tirrenica in dissolvimento e poi attenzione perché della variabilità anche a ridosso della catena alpina è qui dal pomeriggio partire a qualche temporale. La prossima grafica ci fa vedere in sintesi appunto qualche temporale a ridosso dei rilievi montuosi altrove è bello guardate le temperature sulla parte tirrenica anche fino a 32-33 gradi dettagli più precisi però come sempre sull'app di Trebi Meteo. Grazie a tutti.